Il Neuromed della Liga Italiana Lotta Tumori hanno firmato un protocollo d'intesa per la prevenzione delle malattie oncologiche. Il progetto si chiama Amici di Sara ed è dedicato a tutte le norme di comportamento per un corretto stile di vita che precedono le diagnosi precoci e che possono addirittura evitarle. Per questo il presidente del Neuromed Giovanni De Gaetano parla di cura dei sani. Dobbiamo distinguere la diagnosi precoce dalla prevenzione. La diagnosi precoce è importantissima soprattutto per i tumori. Ma noi vogliamo lavorare ancora prima della diagnosi. Vorremmo non arrivare alla necessità di una diagnosi seppur precoce. Per questo la prevenzione che comporta e riguarda gli stili di vita, l'ambiente in cui si vive, anche dei controlli. Però quando siamo sani, a noi piace dire la cura dei sani. Il presidente regionale della Lilt, il dottor Mario Pietracupa, ha sottolineato l'importanza della prevenzione. Noi dobbiamo diffondere innanzitutto la cultura della prevenzione. Fare in modo che si sappia quali sono gli strumenti per poter affrontare alcune patologie. Se riusciamo ad ottenere questo ci sarà anche una maggiore sensibilità da parte degli interlocutori istituzionali. A mio avviso siamo un esempio a livello nazionale. La nostra aspirazione è quella di fare di questa regione un punto di riferimento. La nostra speranza è un punto di riferimento che possa essere di eccellenza dal punto di vista della prevenzione.